buongiorno ragazzi un saluto a torino torino che si deve ancora svegliare sono le 6 e mezza sembra una bella giornata e oggi andiamo al bootcamp di milano il treno delle 7 per milano è davvero il sabato poi davvero da imprenditori ok siamo a milano al solito ritardino di mezz'oretta delle frecce tanto così per farmi arrivare in ritardo anche questa volta però siamo arrivati il posto è quello il sov è sempre su Instagram buon appetito eh madonna cosa mangiate di buono stai facendo sov quali sono le impressioni di questo da vinci ti vedo un po' perplesso bellissimo allora è stata dura andiamo a casa è stata è stata bella mi è piaciuta è piaciuto sono soddisfatto è bravo da vincere ciò è arrivata la cena così impangiato si cosa avete preso eh questa qui è la musa e buongiorno eccoci arrivati al megatubo dove andremo a fare il nostro piccolo volo io mi sono lussato la spalla malamente e non è che mi sono lussato la spalla malamente e non è che me la sono goduta così tanto eh saverio invece si è divertito un sacco mi ha fatto un sacco di foto e qua adesso sono qua che le controllano ma in realtà Tommaso è già al lavoro eccoci qua si sta scaricando tutto eccoci qua il suo bel mac pro e via basta guardare le foto di Instagram sei drogato di Instagram dobbiamo parlarne di questa cosa prima o poi e qui ce l'abbiamo fatta è terminato il bootcamp Mario potrei dire Milano è stato sichissimo è stato divertente ed è stato molto a di sopra delle aspettative questo per dire che siamo stati veramente efficienti ma chi è veramente ancora più efficiente di noi è lui l'aula è vuota ma lui in perterrito continua io rimango va bene al prossimo bootcamp un saluto da Tommaso ciao ragazzi alla prossima ciao ciao al prossimo bootcamp ciao 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 ciao